Tornando agli ebook, vi farò vedere innanzitutto le piattaforme principali per l'area scientifica e per l'area umanistica, quindi sostanzialmente Springerlink per quanto riguarda l'area scientifica e Debsco per quanto riguarda invece l'area umanistica. E poi vi farò vedere brevemente alcune piattaforme in italiano, ovvero Darwin Books e Media Library. Allora, un attimo che carica la pagina. Ah, che stupida, è già caricata. Allora, per vedere tutte le nostre collezioni di ebook, possiamo selezionare la tipologia tipo risorse ebook e cliccare su Vai. A questo punto qua abbiamo tutte le nostre collezioni di ebook, più, come vi dicevo, quegli ebook singoli che funzionano un po' come banche dati e che sono stati acquistati magari per quell'editore, abbiamo comprato solo quel libro lì, tipo il New Palgrave per economia. Allora, questa schermata fondamentalmente risponde alla domanda quali collezioni di ebook ho? Per esempio, voglio vedere se abbiamo di Springer Lecture Notes in Mathematics Poi non mi interessa al momento il singolo titolo, ma mi interessa sapere se abbiamo quella collezione lì. Guardo qua, la trovo, clicco su questo link e passo all'interfaccia originale. Io vi faccio vedere di Springer addirittura Springer Link che è l'intera piattaforma che comprende sia gli ebook che le riviste e vi farò vedere come ricercare in modo di trovare soprattutto gli ebook di cui abbiamo il full text che quindi abbiamo acquistato indipendentemente dalla collana in cui sono. Allora, questa è la home di Springer Link Mettiamo che io voglio vedere tutti i libri sui raggi X Allora Allora, cerco X-Ray Allora, qua mi va a vedere tutto quello che esiste che io sia abbonato o no. Levo questo check e i risultati vengono restretti solo al materiale che fa parte del nostro posseduto Mi interessano solo i libri Clicco su book Qua una lista di 27 titoli che già è gestibile di per sé ma se voglio posso restringere per esempio la mia ricerca solo ai libri di scienza dei materiali A questo punto ho trovato il titolo che mi interessa mettiamo che sia secondo ci clicco sopra e posso scaricare i capitoli in pdf Per alcuni libri c'è anche la possibilità di scaricare l'intero libro in pdf L'importante è che questi pdf li potete usare liberamente a condizione di non fare atti che infrangono il copyright per cui non metterli su un server che è accessibile direttamente dall'esterno non scaricare in automatico tutti i volumi di una collezione ovviamente non ricommercializzarlo però per il resto potete scaricarvi il pdf e tenerlo per un tempo indefinito Adesso vi passo invece a farvi vedere la collezione EBSCO ebook collection Allora qua l'interfaccia diciamo è un pochino più gradevole esteticamente nel senso che ci presenta subito le copertine delle novità in più ci presenta subito anche la possibilità di navigare per categoria Io adesso vi farò vedere un esempio di social sciences però comunque ricordatevi che EBSCO è multidisciplinare per cui ci sono anche titoli di altre materie Allora qua ho la lista dei miei risultati che posso comunque filtrare utilizzando questi filtri trovo il titolo che mi interessa The Global Food System ci clicco sopra mi dà una schermata con l'indice se l'indice mi interessa posso scegliere o lo consulto online quindi clicco su pdf full text e poi posso navigare usando l'indice alla mia sinistra tra i vari articoli e nei vari capitoli posso navigare usando queste frecce da una pagina all'altra posso salvare anche delle pagine c'è un numero limite di pagine cento pagine per sessione oppure se magari mi trovo comodo a leggere questo libro sul mio reader quindi offline posso fare un prestito digitale non vi sto a far vedere la procedura anche perché fa parte di un tutorial a parte basta comunque si dà avvio cliccando su qua download this book offline ci vuole un account di EBSCost che però ci si mettono due secondi a crearlo ci vuole solo nome e cognome e email e tutte le altre informazioni le trovate poi nel tutorial anche in questo caso c'è il link diretto all'assistenza per cui se avete dei problemi cliccate su qua e ci arriva una mail a questo punto vi ho fatto vedere come trovare una collezione di ebook come vedere se abbiamo una determinata collezione ma non vi interessa un titolo preciso mettiamo il caso invece in cui vi hanno dato una bibliografia e dovete vedere se un preciso titolo ce l'abbiamo in formato digitale si clicca su trova riviste e libri si può comunque arrivare anche qua dall'home page da riviste e libri elettronici allora io clicco qua su libri elettronici ok è un po' la è un po' di lo so che dicono tutti oggi funzionava ma oggi funzionava perché ho fatto le prove prima di uscire e funzionava ecco allora ve lo ingrandisco un po' così si vede meglio allora la mia schermata mettiamo che io voglio vedere se è disponibile il libro antropologia giuridica ci sono anche suggerimenti per cui se magari uno non si ricorda il titolo esatto lo può trovare così clicco su vai grazie a tutti 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 allora magari chiudiamo un po' di schede che aiuta grazie a tutti grazie a tutti niente allora dovete sostanzialmente credermi sulla parola ma vi assicuro che c'è sia questo libro che l'altro e sostanzialmente il meccanismo è sempre lo stesso sì allora possiamo mettere inizia con ma non è quello nel senso che io l'ho fatto stamattina l'ho trovato in due secondi e che non so perché probabilmente è un problema di rete fa fatica a caricare la pagina e quindi è un problema di rete e quindi è un problema di rete e quindi è un problema di rete per cui vi dice versione elettronica testo completo disponibile presso Darwin Books ok in attesa che ce la carica vi racconto cosa c'è nella schermata di Darwin Books ovvero c'è la pagina del libro in HTML c'è un link leggi il libro eccolo qua e poi posso per esempio stamparmi il capitolo con una stampante virtuale stamparmelo in PDF e salvarmelo in PDF oppure per alcuni libri c'è la possibilità vi comparirà qua a destra di salvarsi il capitolo in e-pub loggandosi all'interno dell'area personale di Darwin Books adesso vi faccio un esempio con un libro che invece si trova su Media Library Allora, are you ready? eccolo qua il meccanismo è lo stesso cambia solo il fornitore qua mi dà la scheda del libro per consultarlo e prenderlo in prestito devo loggarmi qua mi ha riconosciuto perché mi ero già loggata in Metalib con le credenziali di Ateneo e quindi poi posso prendere il libro in prestito poi noi abbiamo anche altri diversi altri editori diciamo che vi ho fatto vedere i principali per cui sostanzialmente per quanto riguarda gli ebook la sostanza è per vedere che collezioni abbiamo trova banche dati per quanto invece riguarda trovare un titolo specifico trova riviste e libri ovviamente il tab dei libri elettronici e per qualsiasi problema scrivete a usbd chiocciola unimib.it usbd come ufficio servizi biblioteca digitale a questo punto vi ringrazio della pazienza e lascio la parola a Stefania Fraschetta grazie